9.11 Borgo 9.11 Absella 6-8 anni Absella 3 anni Absella 6-8 anni Absella Applausi, applausi, non sento 4-5 Absella 3-5 Borgo Applausi Allora ve li ridico perché forse prima non li ho detti bene C'è il gruppo grandi, il gruppo medie dell'Absella Il gruppo medie di Borgo Massano 9.11 Absella 8.11 Borgo 6-8 Absella 3-5 Borgo 4-5 Absella 3 anni Absella Insomma sono un sacchissimo Bravissime L'applauso più grande va a Silvia però Ed oltre ad essere una bravissima insegnante è anche una bravissima ballerina Infatti l'avete vista nell'ultimo pezzo insieme alle ragazze grandi Grazie a tutti E volevo ringraziare anche la presentatrice E niente vi volevo dire Volevo dire che i bambini siete stati bravissime Anche perché sono moltissime Brave, brave, brave Grazie ai genitori per la pazienza E spero di vedervi a gennaio Perché adesso facciamo le vacanze di Natale E ci vediamo l'8 gennaio Inizia tutto regolare E chi fa classico lo vedo domani Che c'è la dimostrazione di classico Però oggi entro all'Absella Dove facciamo danza Grazie, buone feste e buona serata Grazie a tutti